Continua la strada verso la ripresa del territorio dall'emergenza con numeri decisi e incoraggianti che inquadrano una regione con nuovi ma pochi casi registrati, 20, mentre la provincia di Salerno è in un periodo ampiamente positivo che vede più o meno ogni giorno lo zero nei nuovi positivi al coronavirus. Infatti anche la giornata di ieri su 330 tamponi analizzati nei laboratori del Ruggi e dell'ospedale di Eboli altrettanti hanno dato esito negativo. Arrivano ottime notizie dal Vallo di Diano. Il Luigi Curto di Polla, presidio fondamentale per il Valdiano in questa emergenza, ora è totalmente libero da pazienti che hanno avuto il Covid-19, dimesso anche l'ultimo paziente presente nell'area post-Covid, mentre la scorsa settimana si era svuotato anche il reparto per i positivi. Notizie confortanti arrivano anche da Sala Consilina, cinque degli anziani ospiti del centro Juventus. Risultati positivi sono stati dichiarati guariti e dimessi dal Campolongo Hospital di Eboli ed hanno potuto fare rientro nella struttura salese. Invece per il Cilento nessuna novità in attesa di nuove guarigioni fra le poche positività restanti. Il bilancio del territorio è di sette positivi ad Agropoli, a cui si aggiungono 19 guariti e tre decessi, tre a Casalvelino, uno a Vibonati, Sessa Cilento, Laurino e San Mauro La Bruca.